numero 5 questa è una fotocamera c con un sensore cm os da 20 megapixels che permette di catturare oggetti lontani soprattutto perché ha uno zoom ottico 65 per permette la registrazione di video di alta qualità in risoluzione full hd di 1080p e 30 fotogrammi per secondo ha la connettività wifi che ti darà una grande versatilità soprattutto perché potrai controllare la tua telecamera a distanza utilizzando l'app x pro remote viewer inoltre puoi condividere facilmente le tue foto e i tuoi video con tutti i tuoi amici e familiari ha uno schermo lcd di alta qualità in modo da poter vedere i risultati e una batteria agli ioni di litio che ti darà più versatilità il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 4 questa macchina fotografica è compatta pur offrendo capacità molto avanzate per catturare foto di altissima qualità può fare video in 4k e con 30 fotogrammi per secondo permettendovi di catturare i vostri momenti in alta risoluzione puoi fotografare tutto ciò che vuoi in modo perfetto grazie al suo zoom 60 per questa fotocamera ti permette di fare ottimi scatti anche di notte con immagini di alta qualità in condizioni di scarsa luminosità ha un sensore mos da 18.1 megapixels e un touchscreen lcd di grande qualità ha anche una connessione wifi integrata e un sistema di messa a fuoco unico con il quale è possibile scattare le foto e metterle a fuoco dopo in modo da poter selezionare diversi punti di messa a fuoco e regolare le foto in base alle proprie esigenze se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 3 dispone di uno zoom 50 per che vi permetterà di catturare oggetti lontani con facilità ha un obiettivo carl zeiss vario sonar con il quale sarete in grado di ottenere un'immagine eccezionale in tutte le vostre fotografie ha la connessione wifi e nfc che vi permetterà di collegare facilmente la vostra fotocamera con altri dispositivi con il suo sistema di elaborazione delle immagini bion zx permette di avere una maggiore velocità nel motore di elaborazione delle immagini ciò permette scatti molto più professionali senza contorni enfatizzati con immagini che sembrano più naturali ha un sensore fotografico da 20.4 megapixels con tecnologia cm os x more r che fornirà una cattura accurata in tutte le condizioni di luce include una batteria ricaricabile trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 2 grazie al suo grande sensore in formato destra da 24,2 megapixels ti permetterà di scattare foto di qualità professionale ha una gamma di sensibilità che si estende da 100 a 25.600 iso che vi aiuterà a preservare i colori indipendentemente dalle condizioni di luce in cui vi trovate è dotata di un display led ad alta risoluzione che permette di rivedere le foto catturate facilmente e con ottima chiarezza grazie alla qualità di slr è possibile regolare la fotocamera per catturare perfettamente le foto e fare ottimi video fino a 60 fotogrammi per secondo se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 è una delle fotocamere slr di più alta qualità grazie al suo sensore da 24.1 megapixels può coprire un'area fino a 19 volte più grande di quella che si può ottenere con uno smartphone aggiungendo grande qualità alle vostre foto ha la capacità di creare un effetto di sfondo sfocato che darà una finitura molto artistica a tutte le vostre foto incorpora uno schermo da 3 pollici ad alta risoluzione con un mirino ottico che ha una copertura del 95 per cento permette di catturare video di qualità full hd 1080p a 30 fps con controllo manuale ha un flash ad alta potenza che permette di catturare facilmente tutti i dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità è compatibile con la memoria sd hc e il suo sensore ottico cm os ti permette di avere la massima qualità in tutte le tue foto puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione cliccando nel link in descrizione